13. Da che parte pende la bilancia? Pensava ancora alla rossa, eppure rimpianto e la scontentezza di se stesso gli bruciavano il cuore. Alla fine della giornata, in apparenza così gaia, la tristezza non l'aveva lasciato. Prima di mettersi a cantare non sapeva più come liberarsene, e forse per quello aveva cantato con tanto slancio. E ho potuto abbassarmi fino a questo punto, e dimenticare tutto, pensava. Ma subito tagliò corto con i rimorsi. Gli sembrava umiliante compatirsi. Avrebbe preferito cento volte di far ricadere la sua collera su un altro. Imbecille, forbottò con collera, dando un'occhiata di traverso a Pavel Pavlovich seduto al suo fianco nella carrozza. Pavel Pavlovich rimaneva ostinatamente zitto. Sembrava raccogliersi in se stesso e prepararsi. Di tanto in tanto, con un gesto impaziente, si toglieva il cappello e si asciugava la fronte col fazzoletto. Gronda di sudore, borbottò Vilchaninov. Una sola volta, Pavel Pavlovich aprì la bocca per domandare al cocchiere se il temporale sarebbe scoppiato. Sicuro, ci siamo arrostiti tutta la giornata. Infatti il cielo soscurava, illuminato a volte da rampie ancora lontani. Erano le dieci e mezza quando rientrarono in città. L'accompagno a casa, disse Pavel Pavlovich a Vilchaninov quando furono arrivati molto vicini alla sua casa. Lo vedo, ma vi prevengo che mi sento molto indisposto. Oh, ma non vi tratterrò troppo. Quando passarono davanti alla portineria, Pavel Pavlovich si allontanò un momento per andare a parlare con Mavra. «Cosa siete andato a dire?» domandò se veramente Vilchaninov quando egli lo ebbe raggiunto e mentre entravano nella camera. «Oh, niente. Il cucchiere...» «Sapete, non crediate di bere!» L'altro non rispose. Vilchaninov accese una candela. Pavel Pavlovich si sdraiò nella poltrona. Vilchaninov si piantò davanti a lui con le sopracciglia aggrottate. «Anch'io ho promesso di dirvi la mia ultima parola», disse. trattenendo ancora la sua agitazione. «Eccola, dunque. Io credo che tutto sia definitivamente regolato tra di noi, al punto tale che non abbiamo più niente da dirci. Capite? Più niente. E per conseguenza è meglio che ve ne andiate subito e che io chiudo la porta dietro di voi. «Regoliamo i nostri conti, Alexia Ivanovich», disse Pavel Pavlovich scrutandolo negli occhi. «Come regoliamo i nostri conti?» rispose Vilchaninov cadendo dalle nuvole. «Che strano modo di parlare. Quali conti?» «Ah, è dunque questa la vostra ultima parola. La rivelazione che mi promettevate». «È proprio questa. Non abbiamo nessun conto da regolare. È molto tempo che tutto è regolato», replicò Vilchaninov con aria altera. «Davvero? Credete?» riprese Pavel Pavlovich con voce accorata e nello stesso tempo faceva il gesto di giungere le mani e di portarseli al petto. Vilchaninov tacque e camminò in lungo e largo per la camera. Il ricordo di Lida gli riempì il cuore. Fu come un richiamo doloroso. «Quali sono, dunque, questi conti che volete regolare?» disse dopo un lungo silenzio, soffermandogli si davanti con viso oscuro. Pavel Pavlovich non aveva lasciato di seguirlo con gli occhi, le mani giunte sul petto. «Non andate più laggiù», disse con voce fiocca, supplichevole, e si levò di scatto dalla poltrona. «Come?» «Soltanto questo?» chiesa Vilchaninov con un sorriso cattivo. «Mi fate cadere di sorpresa in sorpresa, oggi», continuò con voce mordente. Poi bruscamente cambiò attitudine. «Ascoltatemi», disse con un'espressione di tristezza e di sincerità profonda. «Io credo che mai, in nessun caso, io mi sia abbassato come ho fatto oggi, prima consentendo ad accompagnarvi e poi comportandomi laggiù come ho fatto. Sono stato così meschino, così pietoso. Mi sono macchiato, mi sono avvenito, lasciandomi andare, dimenticandomi». «E che cosa, poi?» si rimise a sedere di colpo. «Ascoltate, oggi mi avete preso alla sprovvista. Ero eccitato, malato, ma non c'è giustificazione. Non tornerò più laggiù, dove, mi assicuro, non c'è niente che mattiri», concluse risolutamente. «Davvero? Davvero?» gridò Pavel Pavlovich in uno slanzo di gioia. Vecaninov lo guardò con disprezzo e cominciò a camminare per la camera. «Sembrate proprio deciso a fare la vostra felicità ad ogni costo». «Oh sì», disse Pavel Pavlovich, piano piano, sospirando. «E' buffo», pensava Vecaninov. «Non riesce ad essere malvagio che è forza di stupidaggini. Ma io non me ne devo curare, e ad ogni modo non posso non odiarlo. Forse non lo merita neanche. Vedete, io sono un eterno marito», disse Pavel Pavlovich con un sorriso rassegnato. «Conoscevo la vostra espressione da molto tempo, Alexei Ivanovich, da quando vivevamo insieme a ti. Mi sono ricordato molte parole che vi piacevo usare spesso durante quell'anno. L'altra volta, quando avete parlato dell'eterno marito, ho capito benissimo». Mavro entrò con una bottiglia di champagne e due bicchieri. «Perdonatemi, Alexei Ivanovich, sapete che non posso farne a meno. Non vi inquietate, se mi sono permesso. Io sono molto al di sotto di voi. Sono indegno di voi». «Va bene», disse Velcianinov con disgusto, «ma va sicuro che mi fa pena». «Oh, sarà affare d'un minuto», rispose l'altro in fretta. «Sono un bicchiere, perché ho la gola». Voto al bicchiere d'un fiato, avidamente, e si si è detto osservando Velcianinov quasi con tenerezza. «Mavro uscì». «Che disgusto», morborò Velcianinov. «Vedete, è colpa delle sue amiche?» riprese repentinamente Pavel Pavlovich ringagliardito. «Come? Che cosa? Ah già, pensate sempre a quella storia. È colpa delle sue amiche. È ancora tanto giovane e non pensa che a fare degli scherzi per divertirsi. È anzi molto gentile. Più in là cambierà. Io sarò sempre ai suoi piedi. Sarò pieno di cure per lei, che si vedrà osseguiata. E poi la vita. Avrà il tempo di trasformarsi, insomma». «Bisogna pure che gli renda il braccialetto», pensava Velcianinov, preoccupatissimo, tastando l'astuccio in fondo alla tasca. «Dicevate adesso che sono deciso a fare la mia felicità a tutti i costi». «Ebbene, sì, Alexei Ivanovich, bisogna assolutamente che io mi mariti», riprese Pavel Pavlovich con fare persuasivo e con voce un poco tremante. «Se no, che cosa volete che diventi?» «Lo vedete anche voi», gli additò la bottiglia. «E quella non è che la più piccola delle mie qualità. Io non posso assolutamente vivere senza una donna, senza un affetto, senza un'adorazione. Adorerò e sarò salvato». «Ma perché diavolo mi raccontate questo?» stava per esclamare Velcianinov, che faceva fatica a trattenere le risa e si conteneva solo pensando che sarebbe stato troppo crudele. «Allora ditemi perché mi avete condotto là per forza. A che cosa potevo servirvi?» «Per fare una prova», disse Pavel Pavlovich impazzato. «Che prova?» «Per provare l'effetto. Ecco, Alexei Ivanovich, non è che una settimana che io vado laggiù in qualità di...» ed era sempre più commosso. Ieri vi ho incontrato e mi sono detto «Non l'ho mai vista in compagnia dei stranei, voglio dire, con altri uomini. Era un'idea stupida, me ne accorgo adesso. Era una cosa inutile, ma l'ho voluto ad ogni costo. La colpa è del mio brutto carattere». Nello stesso tempo alzò la testa, arrossendo. «Sara vero tutto questo?» pensava Velcianinov, stupito. «E allora?» chiese a voce alta. Pavel Pavlovich sorrise, un sorriso dolce e sognone. «La colpa è delle sue amiche, ma non sono state che bambilate. E molto carine. Voi dovete perdonare la mia condotta stupida verso di voi durante tutta la giornata. Non avverrà più. Anche a me non accadrà più. Non andrò più laggiù», disse Velcianinov sorridendo. «È anche mio desiderio. Ma io non sono solo al mondo. Ci sono anche degli altri uomini». Pavel Pavlovich arrossì di nuovo. «Voi mi mortificate, Alexei Ivanovich. Ho tanta stima. Tanto rispetto, Bernadette Fedoseyevna. Scusatemi. Scusatemi. Non volevo fare delle insinuazioni. Soltanto mi stupisce che abbiate dato tanto peso ai miei mezzi di piacere e che vi siate fidato di me così ciecamente. L'ho fatto perché questo succedeva dopo tutti gli avvenimenti passati. Allora voi mi considerate ancora un amore, disse Velcianinov fermandosi davanti a lui. In un altro momento sarebbe stato atterrito che gli fosse sfuggita una domanda così importante. «Non ho mai cessato di credervi tale», rispose Pavel Pavlovich abbassando gli occhi. «Sì, senza dubbio. Ma non è questo che volevo dire. Volevo domandarvi se non avete la più minima prevenzione». «Nessuna prevenzione?» «E quando siete venuti a Pietroburgo?» Velcianinov non potrebbe attenersi dal fallo di questa domanda, sebbene lui stesso comprendesse a che punto arrivava la sua curiosità. «E quando vengi a Pietroburgo? Io vi reputavo un uomo degnissimo. L'ho sempre stimato, Alexia Ivanovich». Pavel Pavlovich alzò gli occhi e lo guardò in faccia, francamente senza la minima esitazione. Velcianino febbe paura. A nessun costo voleva provocare una spiegazione. «Vi ho amato, Alexia Ivanovich», disse Pavel Pavlovich, come se a un tratto si decidesse. «Sì, vi ho amato, durante il nostro anno di G. «Non ve ne siete accorto?» continuò con voce un poco tremante che atterriva il Cianinov. «Era troppo poca cosa vicino a voi perché ve ne accorgeste?» «E poi forse era meglio così. Durante questi nove anni di lontananza mi sono sempre ricordato di voi, perché non c'è più stato nella mia vita un anno come quello». I suoi occhi brillavano stranamente. Mi ricordo le parole e le espressioni che vi erano familiari. «Mi sono sempre ricordato di voi come un uomo di buoni sentimenti, colto, straordinariamente colto e molto intelligente. Le grandi idee vengono meno da un grande intelletto che da un gran cuore. L'avete detto voi e forse l'avete dimenticato, ma io me lo ricordo. Ho sempre considerato come un uomo di gran cuore e l'ho creduto malgrado tutto». Gli tremava il mento. Vercenninov era spaventato e voleva ad ogni costo por fine a quell'improvvisa effusione. «Basta, vi prego, Pavel Pavlovich», disse con voce sorda e fremente, arrossendo. «Perché vi dovete avvinghiare così a un uomo già scosso, vicino al delirio, e trascinarlo in tutte queste tenebre, quando tutte queste cose sono fantasmi, illusioni, menzogne, vergogne, falsità e senza misura?» «E proprio questa è la cosa principale. E quel che è peggio è che voi e Dio siamo persone viziose, dissimulatrici e vili. Volete che vi dimostri ora che voi non siete il mio amico, che anzi mi odiate con tutte le forze e che mentite e lo sapete. Siete venuto a prendermi, ma avete condotto laggiù non per provare la vostra fidanzata. Forse è che una simile idea può venire in testa ad un uomo. «No, ecco la semplice verità. M'avete visto ieri e la collera vi ha ripreso. M'avete condotto per farmela vedere e per dirmi «Vedi come bella!» «Ebbene, sarà mia. Fatti avanti adesso!» «M'avete sfidato?» «Chissà, forse non lo sapevate nemmeno voi, ma questo era il vostro pensiero. E per fare una simile sfida bisogna odiare. Perché voi, sì, voi, mi odiate!» Correva gridando per la camera e si sentiva avvilito, offeso e soprattutto umiliato all'idea di abbassarsi così davanti a Pavel Pavlovich. «Volevo fare la pace con voi, Alexei Ivanovich», disse l'altro a un tratto con voce decisa ma breve e rotta e il suo mento ricominciò a tremare. Un furore selvaggio si impossessò di Velsaninov come se avesse subita una gravissima ingiulia. «Vi ripeto ancora una volta», urlò, «che vi siete attaccato a un uomo malato, demolito, per strappargli nel delirio non so che parole che non vi vuole dire. Andiamo. Non siamo gente dello stesso mondo. Capitelo. E poi...» «E poi...» «Fra voi e me?» «C'è una piccola tomba», aggiunse, balbettando di rabbia. «Come potete sapere?» Il viso di Pavel Pavlovich si contraste e divenne improvvisamente pallido. «Come potete sapere cosa rappresenti per me quella piccola tomba?» gridò, avvicinandosi a Belcianerov e battendosi il petto con un gesto ridicolo ma terribile. «La conosco, quella piccola tomba. Dai lati ci siamo noi due. Soltanto, dalla mia parte, c'è molto di più. Sì, molto di più!» balbettò come in un delirio continuando a battersi il petto coi pugni. «Sì, molto! Molto di più!» Una scampanellata violenta li fece bruscamente tornare in sé stessi. Suonavano così forte che sembrava volessero strappare il cordone del campanello. «Non si suona in questo modo a casa mia!» disse Belcianinov con rabbia. «Eppure non stanno suonando in casa mia!» borbottò Pavel Pavlovich che in un batter d'occhio era tornato padrone di sé e aveva ripreso il suo solito contegno. Belcianinov aggrottò le cilie ed andò ad aprire. «Il signor Belcianinov, se non sbaglio!» disse una voce sonora, giovane e sicura. «Cosa desiderate?» «Sano di certo!» proseguì la voce sonora «che c'è da voi in questo momento un certo Trusovski!» «Ho bisogno di vederlo! Subito!» Belcianinov avrebbe volentieri gettato con un calcio giù per le scale il signore così sicuro di sé stesso. Ma riflettè e lo lascia passare scostandosi. «Ecco il signor Trusovski! Entrate!» e la sfida salta! Ma riflettè! «Ecco il signore!» «Icco in Italia!» «Seppon!» «In Italia!» «Seppon!» «Ecco in Italia!»